Ciao da Avsim! Benvenuti su Pirlo Tactics, la rubrica che il giorno dopo le partite della Juventus prova a spiegarvi dal punto di vista tattico come è andata la gara. Una rubrica in collaborazione con l'amico Pier Giorgio, preziosissimo il suo aiuto, la sua collaborazione, che fa parte della community degli abbonati. Quindi se volete stare più strettamente in contatto con me e anche provare a collaborare per qualche video ed entrare direttamente in qualche video, valutate i vantaggi dell'ingresso in Avsim FC con l'abbonamento che è spiegato qui sotto. Ma intanto vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video, compresi quelli di questa rubrica tattica. L'esigenza di spiegare tatticamente la partita, volevo precisarla in questo primo Pirlo Tactics del 2021, è per evitare anche di avere delle etichette preconcette nei confronti dei giocatori e nei confronti della squadra, andando a fondo nell'analisi della partita. È chiaro che nessuna analisi tattica è esaustiva al 100% ed è veritiera al 100%. Si tratta comunque di opinioni che quindi possono tranquillamente essere confutate. In tal senso Pier Giorgio sarà disponibile nello spazio dei commenti qui sotto per rispondere specificamente e direttamente alle vostre curiosità e anche alle vostre critiche ed osservazioni su quella che è la nostra analisi tattica, che comunque è un'analisi tattica a tutti gli effetti pur con scarsità di mezzi ma miei più che altro perché Pier Giorgio si è dotato invece di tutta la strumentazione possibile per eseguire il lavoro veramente alla grande ed è tutto merito suo da questo punto di vista. Quindi gli applausi a Pier Giorgio, i pomodori addosso a me grazie, senza ovviamente nessun tipo di falsa rappresentazione, cioè in maniera assolutamente veritiera e senza esagerazione, senza falsa modestia diciamo così. Ma fatte queste premesse entriamo allora nell'analisi di questa partita Juventus-Udinese 4-1. Una partita che ha visto una Juventus vincere ma non convincere fino in fondo per quanto riguarda la proposta di calcio. Io per esempio inizierei a sottolineare, partendo dalle statistiche, poi appunto andiamo all'analisi di Pier Giorgio e le sue grafiche il fatto che sicuramente la Juventus ha vinto il possesso, 63 a 37, sicuramente abbiamo fatto una buona mole di passaggi quasi 700 contro i circa 400 dell'Udinese, siamo stati anche molto precisi, 91% contro 83 e abbiamo anche fatto moltissimi tocchi di pallo, 848 a 559 però vi mostro appunto la hitmap della Juventus, fonte who scored, come anche tutti i dati che vi ho elencato fino a questo momento. Come vedete le zone calde sono un po' arretrate, non c'è una zona calda avanzata, non siamo riusciti ad occupare bene la tre quarti e soprattutto l'area di rigore. È chiaro che mancava Morata però pur con il dinamismo di muovere tanti giocatori e lo vedremo tra un attimo in quella che è stata la spiegazione di Pier Giorgio non siamo riusciti a fare veramente possesso lì davanti nonostante un'Udinese che appunto non ha fatto possesso non ha avuto un'elevatissima, ma comunque non bassa, precisione dei passaggi ma soprattutto, come ci dice Understat, ha avuto un indice PPDA iperbolico ora io non so se Understat ha sbagliato perché il PPDA della Juve è stato 6, quello dell'Udinese è stato 53, una roba mai vista ammesso che abbia sbagliato Understat nel calcolarlo cioè non è possibile che la Juve abbia fatto 53 passaggi consecutivi prima di subire la riaggressione dell'Udinese perché comunque l'Udinese non è stata annichilita anche come baricentro medio del gioco però se non è 53 comunque è stato un numero molto alto perché l'Udinese ha sostanzialmente rinunciato al pressing rinunciare così tanto al pressing, come vediamo anche dal fatto che hanno fatto solo 4 intercetti la Juve il triplo, cioè 12 e 10 contrasti vinti la Juve quasi il doppio, cioè 18 avrebbe dovuto portare la Juve a giocare in maniera molto più fluida e tra l'altro questo comporta che se l'Udinese ha rinunciato al pressing e a recuperare il pallone tutti i palloni che l'Udinese ha potuto giocare li abbiamo regalati noi mi pare evidente a livello logico il tutto condito da una mole di tiri comunque soddisfacenti abbiamo fatto 20 tiri totali, di cui 10 in porta e 10 in area di rigore l'Udinese 10 tiri totali, di cui 3 in porta e 5 in area di rigore questo per quanto riguarda le statistiche secche mentre le statistiche più elaborate, tornando ad Understat come gli expected goals, ci dicono che comunque non era una partita da 4 a 1 e questo ce ne avevamo accorti perché la Juve ha avuto un punteggio expected goals di 3,5 l'Udinese 1,8 contate che hanno preso due traverse quindi l'Udinese avrebbe anche meritato il secondo gol e la Juve non avrebbe meritato così tanto il quarto come dicevo ieri a caldo post partita a sensazione proprio d'impatto era una partita da 3 a 2 se proprio bisognava vincere per quanto riguarda il coinvolgimento dei singoli giocatori voglio sottolineare la presenza oscura di Danilo che è stato quello che ha fatto in assoluto più tocchi 116 e più passaggi 99 ma non ha inciso particolarmente perché è stato un giocatore di scarico cioè serviva per far circolare il pallone per avere l'appoggio facile quando gli spazi erano intasati e da questo punto di vista la posizione in campo quasi da terzo difensore centrale di Danilo anche se defilato è stata fondamentale ed è ormai una sicurezza nello sviluppo tattico della Juve di Pirlo poi abbiamo per quanto riguarda i tocchi di palla Di Bala al secondo posto 96 seguito da De Ligt 84 Bentancur 81 e Bonucci 75 anche se Di Bala ha fatto solo 70 passaggi davanti a lui De Ligt 76 e Bentancur 71 perché comunque Di Bala ha cercato anche la qualità e non ha consumato i suoi tocchi di palla solo facendo passaggi molto bene per la precisione dei passaggi McKennie 97 ma mi sovviene che forse questa precisione è acuita dalla bravura dei compagni a ricevere le fucilate di McKennie che spesso il pallone lo passa non proprio in maniera precisa quindi da migliorare comunque McKennie dal punto di vista tecnico molto molto bene invece De Ligt 96 che è stato ammonito non si è ancora capito perché Bentancur 94 come Ramsey e Danilo 93 per i keep passes molto bene Bentancur ne ha fatti addirittura 4 e uno di cui si è stato un assist lui poi a fine partita ha detto mi fa piacere fare assist anche più del gol e l'importante è che si vinca 3 keep passes anche Danilo e Chiesa per quanto riguarda i tiri clamorosamente Ronaldo non è stato quello che ha tirato di più ma Federico Chiesa 5 tiri totali di cui 2 in porta Ramsey 4 tiri totali di cui addirittura 3 in porta e da questo punto di vista Ramsey avrebbe potuto anche trovare il gol al di là di quello che gli è stato annullato e poi Ronaldo e Di Bala entrambi con 4 tiri totali di cui 2 in porta per quanto riguarda il recupero balla la fase difensiva 3 contrasti a testa per De Ligt Bentancur e Ramsey e 3 intercetti per Danilo 2 per Alexandro e McKennie Alexandro che ha fatto comunque una brutta partita a questo punto sono andato lunghissimo ma c'è assolutamente la necessità di procedere con la lettura dell'analisi di Pier Giorgio che ne ha saputo spiegare molto ha saputo spiegare la partita molto meglio Juventus che torna alla vittoria contro l'Udinese mostrando alcune cose buone ed altre meno convincenti confermando alcuni difetti congeniti che sembrano difficili da correggere intanto la solita disposizione ed il solito piano ovvero stanare gli avversari attraverso un palleggio prolungato ma non assistito da un necessario movimento senza palla indispensabile in partite contro squadre così chiuse e basse come quella di Gotti il maggiore difetto è la ricerca dell'occupazione del terzo offensivo con troppi uomini sopra palla che crea in primis un intasamento degli spazi in fase offensiva e poi anche un problema nella gestione dei palloni persi in questo caso meno evidente vista la poca aggressività mostrata in fase di pressione dai friuliani le rotazioni offensive sono state quasi annullate con i soli movimenti dei finti esterni e delle punte le proiezioni di sviluppo bianconere sono molto chiare con Ramsey e McKennie che vengono a fare gli intermedi e l'americano che si alza per far spazio a Dybala quando questi cerca di venire a giocare qualche pallone più da basso solo movimento a stantuffo per Ramsey e Dybala o McKennie l'obiettivo è stanare i marcatori avversari e creare uno spazio attaccabile alle spalle però riesce poco anche a causa di una trasmissione molto lenta resa ancora più complicata da questo intasamento fin troppo statico degli ultimi 25-30 metri avversari basti pensare che è Bentancur che va sul loro play Wallace mentre è Pusset ad occuparsi dell'uruguayano quando la Juventus prova a costruire da basso formando quello che gli appassionati di numeri definirebbero un 4-3-3 infatti oltre a Ronaldo che si apre spesso sulle corsie esterne specialmente a sinistra Chiesa ed Uno tra McKennie e Dybala vanno a formare la prima linea questo rende più facile il lavoro dell'Udinese in fase di non possesso perché appunto Pussetto prende fisso Bentancur sulla prima costruzione e gli altri escono a turno sugli uomini che vengono incontro anche facendo ricorso alle maniere forti così con sei uomini spesso sopra palla e spalmati su tutto il fronte d'attacco si fa fatica a costruire armoniosamente ed ecco che tornano i palloni lunghi a saltare il centrocampo sugli attacchi alla linea non molto riusciti peraltro poco sfruttamento dell'ampiezza e tanti spazi ingolfati la soluzione è entrare sulle combinazioni strette e quando è Ramsey sempre più fondamentale il gallese ad accendersi si aprono spazi si creano 2 contro 1 e si vedono triangoli che destabilizzano il sistema difensivo dell'Udinese se no con Dybala che gira a largo se non ci pensano Ramsey, McKennie e Ronaldo si fa fatica a riempire l'area l'Udinese aveva un piano chiaro giro palla poco preciso malgrado una pressione tutt'altro che forse nata dai bianconeri difensivo e poi una volta superata la prima pressione si va sull'attacco verticale con lo sfruttamento della classica spaziatura del campo diviso in 5 corsie lo vedremo troppo nella grafica per cui sull'asse di destra si va con Bonifazi Depol-Lasagna e di là Samir Pereira Pussetto pochissima pressione Udinese e tanta difesa posizionale per costruire le linee di passaggio proprio con lo sfruttamento di queste assi i friulani si faranno pericolosi quelle volte in cui ci riusciranno grazie appunto all'attacco su una mezza posizione e poi il cambio di fronte ad andare a sfruttare il lato debole altro difetto che Pirlo sembra non riuscire a correggere così arrivano ben due traverse oltre alla rete annullata nel primo tempo in conclusione una Juventus in chiaro scuro che ha ancora tanto da lavorare ma si è ripreso il cammino bruscamente interrotto contro la Fiorentina passiamo all'analisi dei goals e poi abbiamo le grafiche 1-0 su rimessa laterale di Strieger Larsen depolsi addormenta e si fa attaccare da Ramsey che gli strappa il pallone toccandolo in profondità per Ronaldo il portoghese entra in area salta secco De Maio e fredda Musso con un preciso tiro all'angolo alla sinistra del portiere argentino 2-0 gol costruito su un asse verticale Alexandro che sfrutta un controllo non perfetto di un avversario che gioca il pallone su Ronaldo che gioca benissimo d'esterno alle spalle della linea Chiesa attacca lo spazio benissimo e sorprende Strieger Larsen e beffa Musso con un tocco angolato di sinistro 3-0 pasticcio a metà tra Samir che passa un pallone troppo timido e De Paul che si fa attaccare ancora con troppa mollezza e distrazione da Bentancur il quale recupera il possesso e si porta avanti fino al limite dell'area qui serve Ronaldo che a tu per tu con Musso non perdona ed insacca ancora la sinistra del portiere e Udinese 3-1 sfruttamento dell'asse di destra in un'ennesima giocata di quelle che avevamo descritto da parte di Bonifazi che serve De Paul il quale salta fra botta subentrato nel frattempo con il numero 38 che è davvero troppo morbido nell'occasione e mette in mezzo un pallone su cui Nestorowski spara ad ossa scesi da sottomisura sulla corta respinta del polacco Zegelar in sacca porta vuota infine il 4-1 ennesimo pallone sbagliato in impostazione dai Friuliani e Danilo serve in profondità di Bala che penetra in mezzo alla linea arretrata degli uomini di Gotti che ormai sembravano aver mollato e supera Musso con un preciso tocco che si insacca stavolta alla destra del numero 1 argentino ed abbiamo quindi le grafiche sono 4 in totale quelle sviluppate ottimamente da Pierre Georges nella prima vediamo gli schieramenti di base che sono soltanto ideali mai siamo stati posizionati entrambe le squadre contestualmente in questa maniera ma è per dare l'idea con la Juventus però in costruzione e quindi si vedono Ramsey e McKennie spostarsi per creare i presupposti per diventare gli intermedi e Ronaldo si apre quindi come potete vedere Ramsey viene a fare praticamente un movimento a rientrare a quel punto Ronaldo va ad allargarsi e il movimento di McKennie è molto importante perché deve un po' aggredire cercare di creare gli spazi andando poi anche a triangolare come posizione con Chiesa naturalmente con Di Bala tra l'altro molto frequentemente abbiamo visto McKennie più alto di Di Bala anche proprio in proiezione centrale e Bentancur nettamente abbassato su una sorta di seconda linea di difesa spesso sulla stessa linea di Danilo un po' meno di Alexandro che invece andava più profondo davanti dalla seconda grafica invece vediamo la posizione di sviluppo della manovra della Juventus quindi quando provavamo ad attaccare atta a portare manovra atta a portare tanti uomini nel terzo offensivo allo stesso tempo però si vede come all'Udinese interessa bloccare tutte le linee di passaggio nella propria metà campo infatti tutti i bianconeri in questo caso la Juve visto che l'Udinese era in blu sono marcati e sugli esterni c'è addirittura un raddoppio come ottengono questo i giocatori dell'Udinese lasciando liberi i due braccetti del rombo basso della Juve cioè Danilo e Delict e portando un uomo su Bentancur è chiaro e qui l'abbiamo visto prima che lo sfogo dell'azione della Juve su Danilo più che su Delict risulta utile proprio in una situazione in cui non ci sono spazi ma è uno sfogo che poi ti porta a costruire? no è uno sfogo e basta cioè la palla va su Danilo che fa un sacco di tocchi un sacco di passaggi ma è tutto ricorsivo e autoreferenziale gli spazi restano comunque intasati quindi ha fatto un buon lavoro Gotti nell'isolare probabilmente Danilo e Delict chiudendo gli altri spazi poi la partita ha svoltato comunque a vantaggio di Pirlo terza grafica quando la Juventus conquista il predominio territoriale nella metà campo udinese ecco che c'è libertà di manovra per la terza linea di Pirlo e però tutti gli spazi sono forse ancora più intasati in questo caso lo scambio di posizione tra McKennie e Dybala come dicevo prima McKennie che va più alto con l'americano che dovrebbe aiutare Ronaldo e Chiesa a riempire l'area e favorire un ingresso da lontano di Dybala e Ramsey ma questo funziona solo a sprazzi soprattutto perché Dybala è entrato pochissimo si è proiettato pochissimo in avanti Dybala infatti è spesso anche molto è preso anche molto in alto da De Maillot che gli va praticamente in uscita Ramsey invece riesce più spesso a dialogare con Alexandro e Ronaldo formando un vero e proprio triangolo da quella parte a sinistra oltre che Ramsey riesce secondo me molto bene ad inserirsi e infine l'ultima grafica preannunciata che spiega le linee orizzontali quindi le corsie le famose 5 corsie che determinano gli half spaces è una terminologia tecnica del linguaggio tattico ci si fa riferimento nelle squadre che fanno un calcio più evoluto ma ormai sono cose che si masticano da anni quindi non è nulla di straordinario gli half spaces ovviamente quando si parla di half spaces si parla soprattutto di Pep Guardiola classica suddivisione in 5 corsie immaginarie del campo da parte dell'Udinese che crea due assi sulle mezze posizioni e va ad attaccare la linea arretrata bianconera alle spalle così facendo questo porta cioè portando quindi l'attacco su un lato e poi sfruttando il cambio sul lato debole come avevamo detto prima arriveranno il gol fatto e quello annullato e le maggiori situazioni di pericolo create l'Udinese che ne ha create ne ha create un aspetto che Piro deve assolutamente correggere perché qui praticamente ci mostriamo distratti vulnerabili anche con poco cioè quasi in maniera facile le squadre avversarie vengono alte a crearci gioco con fluidità in questa maniera e se troviamo e quando troviamo e troveremo squadre che hanno anche un'ottima fluidità e sinergia cioè si trovano a memoria come per esempio il Milan le cose possono diventare molto molto più pericolose e dobbiamo pregare ogni volta che un giocatore avversario abbia sfiorato la palla con la mano come nel caso di Tepol per non andare sotto sul punteggio grazie allora per la vostra attenzione nei commenti trovate Pier Giorgio per un confronto diretto con lui e in ogni caso esprimetevi con le vostre opinioni nel rispetto delle opinioni di tutti gli altri mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video Pirlo Tactics e anche tutti gli altri ci vediamo molto presto e sempre forza Juve